Anche quest'anno come nella scorsa edizione il Gazzettino Vesuviano è partner di Miss Ondina Sport e attraverso le pagine del nostro quotidiano online ilgazzettinovesuviano.com è possibile accedere alle schermate per la votazione della Miss Gazzettino Web che sarà proclamata nella serata di sabato durante la finalissima. Accedendo dal banner appositamente creato attraverso la freccia vota sulla tua preferita sarà possibile cominciare la procedura per la votazione. La prima schermata è dedicata all'accesso all'account Facebook. Nelle ultime ore abbiamo avuto alcuni problemi per la votazione come c'è stato segnalato da diversi nostri lettori e siamo intervenuti prontamente e oggi in questo momento dovrebbero essere tutti quanti risolti i vari bug che ci bloccavano e che rendevano difficile la votazione per una mancata interfaccia completa con il sistema Facebook. Facebook l'abbiamo scelto perché ci dà massima garanzia di trasparenza. Attraverso il sistema Facebook ogni account vale un voto, di conseguenza non sarà possibile dare doppi voti e una volta votato non sarà permesso più una successiva votazione. La prima cosa da fare sarà quella di accedere e di inserire il proprio account e la propria password. Una volta inserita l'account ci saranno altre due schermate nelle quali il Gazzettino Visuiano e Facebook vi chiederanno prima di tutto la possibilità di utilizzare i vostri dati personali anche perché bisogna tenersi alle varie leggi sulla privacy. Successivamente ci sarà la possibilità di dare un altro consenso alla pubblicazione dei nostri contenuti, delle nostre notizie sulle bacheche dei vostri amici in modo da dare anche loro la possibilità di usufruire del nostro servizio. Infine si passerà all'ultima schermata che è questa che state vedendo nella quale il sistema vi chiederà di diventare fan del Gazzettino Visuiano attraverso il pulsante mi piace. Una volta premuto mi piace automaticamente dopo qualche secondo o premendo sulla scritta aggiorna la pagina si passerà alla schermata delle 40 finaliste che concorrono anche per la fascia di Miss Ondina Web. Si potranno scorrere tutte e 40 le foto delle ragazze e scegliere la vostra preferita. A quel punto per eseguire il voto bisognerà cliccare o sulla foto oppure direttamente mettendo una spunta sul pallino tra nome e fotografia e successivamente e così di conseguenza uscirà nella fascia blu in basso sullo schermo uscirà il vota e il nome ovviamente della vostra prescelta. Premendo su quella freccia si darà definitivamente il voto alla vostra Miss preferita. A quel punto il sistema vi ringrazierà per aver votato e vi rimanderà a seguire tutti gli aggiornamenti sui nostri mezzi di comunicazione o sulla pagina facebook o direttamente sul sito ilgazzettinoesuiano.com. Grazie per aver ascoltato e per aver seguito questo tutorial e buon voto!